Pisanco Maggiukic esce il match winner abbiamo detto all'andata non un top player non è un virtuoso del gesto tecnico non fa volare la fantasia ai tifosi ma è concreto, è essenziale gran fisico, lavora molto per la squadra altruista, fa anche gol dal tuo intanto Pisanco, scambio anche impressione con Maggiukic sulla sistemazione in campo 34 anni, peruviano, ex Verder Bremen lo ricorderete, già al Bayern Monaco dal 2001-2007 poi anche al Chelsea da 2-12 ritorno l'altra settimana ha fatto 4 ore in campionato nel famoso 9-2 in Hamburg Pisanco 39esimo prova la Juve, almeno per pareggiare questa partita Lucinic Pirva pretutto Isla è in posizione la palla difficile però da gestire se la prende comoda Noyer un po' di riposo per Maggiukic e torniamo da Francesco Vecchi sì, ecco, giusto per trovare un po' di pelo del uomo in questo Bayern posso riportare che la faccia di Mario Gomez in questo momento in campiera non è felicissimo il torero avrebbe venuto magari qualche minuto anche per ritrovare tra le migliori condizioni qualche infortunio una preparazione non perfetta per lui soprattutto il rendimento di Maggiukic gli hanno avvicinato poche occasioni in quest'anno ecco il torero insomma, siamo più giocatori di grandissime qualità che potrà tornare utile magari anche in una fase finale di questa stagione vi ricordo che il sorteggio per le semifinale è previsto la dicione quindi Vucinic mi va a superare due uomini non ce l'ha fatto i 10 minuti finali di più a un tempo sono stati preludio a un secondo tempo con non molte energie da parte della Juventus mi avviso nella prima parte aveva giocato una pari contro il Bayern poi in questo secondo tempo no si è vista proprio la quadratura dei bavaresi la compattezza della spada di Eichels la sicurezza nelle giocate la tranquillità Vucinic quindi ce l'ha fatta controllare? eh busco dai sono stato buono